Continua dunque il nostro viaggio alla scoperta dei giocatori che non verranno il mio, sto scherzando naturalmente, ma insomma con qualcuno ci abbiamo preso, con Pulisic e con Loftus Cic, altri sono in sospeso in attesa di sapere, di conoscere quale sarà il loro destino, penso a Kamada e tanti altri, insomma probabilmente non li vedremo mai in maglia rossonera, ma noi facciamo questi approfondimenti per analizzare le caratteristiche dei giocatori. Dopo le parole di Pioli di oggi in conferenza stampa cerchiamo di farci un'idea un po' più precisa su quali tipi di giocatori, con quali tipi di caratteristiche vorrà avere il mister in squadra e una delle cose che ci ha raccontato oggi è stata quella legata all'attaccante destro, vi ho detto che stiamo cercando un attaccante veloce che sappia giocare nell'uno contro uno, quindi che abbia tecnica, che abbia dribbling e che sia appunto un giocatore rapido. Il profilo più caldo in questi giorni è quello di CQS del Villareal, sul quale sono cadute le attenzioni dei nostri dirigenti, anche se sembra difficile ad oggi il suo approdo al Milan, anche per ragioni legate al prezzo e io anche direi per le ragioni legate alle parole del presidente Villareal, insomma non ha perso occasione per così, diciamo ha perso l'occasione di star zitto, ecco mettiamola così. Questo video è dedicato a Isaksen, a questo ragazzo di 22 anni, si chiama Gustav Isaksen, 22 anni, danese, giocatore del Midtieland, giocatore che potrebbe essere un nome adatto per il Milan, anche se in realtà è un giocatore che è già sui tacquini di tante squadre europee, insomma nel corso di quest'ultimo anno si sono succeduti gli interessi di diverse squadre, insomma addirittura del Manchester City, insomma tante formazioni hanno messo gli occhi su di lui perché è un giocatore di grande talento, ma è un giocatore anche con caratteristiche particolari che adesso andremo a vedere e cercheremo di capire se eventualmente dovesse arrivare al Milan si tratta effettivamente del profilo giusto per noi. E vedremo che insomma ci sono alcuni aspetti del suo modo di giocare che forse mal si conciliano con tutto il nostro pacchetto offensivo, che comunque è stato rinforzato con l'arrivo di Pulisic, ma deve ancora poi conoscere il nome ad esempio dell'attaccante, dell'attaccante che si alternerà con Giroud. E allora andiamo a vedere insieme le statistiche, il cartello e l'approfondimento su questo ragazzo. Eccolo qua. Allora Gustav Isaksen, dicevamo 22 anni, danese, questo ragazzo da questa bella faccia, questi sono i suoi numeri nel corso dell'ultima stagione. In campionato danese 18 gol e 5 assist in 32 presenze, un'escalation veramente importante, in più 4 presenze in Champions League senza gol e 8 presenze e 3 gol e 2 assist in Europa League. In Europa League ricorderà più di qualcuno anche il gol segnato alla Lazio, un bel gol segnato allo Stadio Olimpico. In totale, questi sono i suoi numeri nel corso delle ultime stagioni. Come vedete, insomma, l'ultima, quella che si è appena conclusa, è stata la stagione del suo exploit, perché 18 gol, l'anno prima 5, l'anno prima 1. Insomma, un giocatore che sta crescendo dal punto di vista di apporto offensivo e sull'apporto offensivo, nessuno avrà nulla da ridire, su quello difensivo vediamo. Queste sono le sue zone d'azione. Lui è fondamentalmente un attaccante destro, come vedete anche dalla mappa, è lì che ha giocato nel corso dell'ultima stagione. Tra l'altro, in questa posizione, ha segnato 23 gol nel corso della sua carriera e ha fornito 14 assist, però è un giocatore al quale piace muoversi sul fronte offensivo. Infatti, se vi capita di andare sul sito del campionato danese, il sito ufficiale, potete trovare nella pagina dedicata a Isaacsen tutte le reti che ha segnato nell'ultimo campionato con il Mid-Tiland. E lì vedrete, insomma, che alcuni gol sono arrivati da sinistra, altri sono arrivati da destra, altri centralmente, alcuni anche abbastanza di rapina. E, insomma, è un giocatore a cui piace muoversi sul fronte offensivo, ma fondamentalmente resta un attaccante destro. Alcune caratteristiche le ho riassunte qui in questo testo, un giocatore al quale piace molto dribblare, al quale piace molto l'uno contro uno, e qui torniamo alle parole di Pioli di oggi. Si destreggia molto bene con entrambi i piedi, naturalmente questo gli dà un vantaggio quando affronta gli avversari, ma soprattutto si trova a suo agio quando taglia da destra e può usare il piede sinistro. I suoi punti di forza principali sono la velocità e la capacità di dribbling, non è un vero e proprio regista esterno, ma una volta isolato con un difensore e gli viene dato spazio, gli stessi avranno vita dura, perché la sua accelerazione e velocità sono impressionanti ed è anche bravo nel controllo palla. D'altra parte deve ancora lavorare sulla finalizzazione in situazioni decisive all'interno della squadra. Quest'anno questo aspetto si è visto meglio, ma è un lavoro che come abbiamo visto da tre statistiche degli anni precedenti dovrà continuare. Questa è la sua progressione nelle ultime stagioni per quel che riguarda i gol segnati per 90 minuti, vedete come nell'ultimo anno sia stato un balzo in avanti decisivo, così come i gol più assist sono progressivamente in crescita nell'arco della sua carriera. Queste sono alcune statistiche, la famosa tabella del percentile, io ho messo in evidenza alcune parti, se dal punto di vista dei passaggi, del punto di vista dei tocchi, non ci sono grossi problemi, notiamo che invece sia dal punto di vista della percentuale di completamento dei passaggi, ed ecco anche lì il discorso della finalizzazione, anche dell'ultimo passaggio, dove deve migliorare rispetto a giocatori con le stesse caratteristiche e soprattutto nella parte bassa, come vedete, le caratteristiche senza palla, ecco questi sono i grandi problemi di Isaksen. Il grande problema in questo momento di Isaksen è la fase difensiva, come vedete i dati di contrasti, di intercetti, blocchi, salvataggi, eccetera, sono veramente dei dati molto molto bassi. Per fare un confronto, vedete, proprio un confronto veloce, ho preso tre giocatori, due li abbiamo già e uno vorremmo averlo. Il primo con il quale confrontiamo i dati è Salemaker, ovviamente campionato diverso, ovviamente diciamo anche minutaggio diverso, però vedete come i dati di Salemaker nell'ultimo box siano decisamente migliori per quel che riguarda la fase di non possesso. Ma persino il buon Junior Messias ha dati migliori per quel che riguarda la fase di non possesso e quindi questa cosa che cosa ci racconta? Ci racconta che Isaksen deve lavorare molto e probabilmente in questo senso il passaggio a una squadra di livello superiore potrà aiutarlo per crescere dal punto di vista di non possesso, però in questo momento è un grande limite del giocatore. Il confronto anche con Chukwes è un confronto, qui vedete già Chukwes comincia a avere un paio di dati insomma in fase di non possesso, qui ovvio che poi tutti gli altri dati sono superiori, è anche un giocatore che ha militato in campionati più importanti, però anche qui le cose sono un po' diverse. Invece dal punto di vista offensivo il confronto dell'ultima stagione tra i quattro giocatori è assolutamente a favore di Isaksen, chiaro anche qui campionato diverso, situazioni diverse, 18 reti, Salemaker ne ha fatti solo due, Junior Messias ne ha fatti cinque, Chukwes ne ha fatti sei, si parla naturalmente di campionato. Addirittura la vedete come la colonna dei tiri si ha addirittura 91 tiri per Isaksen, poi c'è Chukwes con 60, i nostri con 35 e 32. E questo è un po' il quadro generale del profilo di Gustav Isaksen. Come dicevo è un ragazzo che deve lavorare, è un ragazzo che deve lavorare molto in un contesto più di livello, anche perché Mitilla è una delle prime formazioni del proprio campionato, quindi è chiaro che è una squadra che segna anche molti gol in un campionato particolare. C'è bisogno, c'è bisogno di un salto, se questo salto sarà il Milan non lo so, certo è che i suoi dati in fase offensiva sono dati importanti, che vanno poi riportati in un campionato diverso, con una maglia diversa, con una pressione diversa, ma queste sono cose che i nostri osservatori e i dirigenti valuteranno, insomma. Quello che possiamo dire è che è un ragazzo che va ancora formato da un punto di vista di calciatore a tutto tondo. Questo che cosa potrebbe comportare da noi? Potrebbe comportare il fatto che un attacco che già prevede molto probabilmente quattro giocatori offensivi, perché penso a Leao, penso a Pulisic, penso a Giroud o chi per lui, e anche l'attaccante destro che Pioli vuole, è chiaro che se non vedesse partecipare questi giocatori anche alla fase di non possesso diventerebbe una squadra tremendamente sbilanciata e andremo incontro a quelle situazioni che purtroppo hanno compromesso diverse partite dell'ultimo campionato, e cioè il fatto di avere una squadra spaccata in due. Questo va assolutamente evitato, l'equilibrio dovrà essere una delle parole chiave della stagione che è iniziata oggi e da questo punto di vista il ragazzo deve lavorare molto. Certo, poi per quel che riguarda il talento, per quel che riguarda la qualità, per quel che riguarda la tecnica, non si discute. È un ragazzo, ripeto, assolutamente di grande talento, non per niente, come dicevo all'inizio, è finito sui tacquini di tante squadre anche importanti. Certo, credo che anche l'investimento possa essere un investimento abbastanza importante, ora le cifre non le conosco, ma insomma credo che si parli di più di 15 milioni di euro. Sono indubbiamente delle scommesse, in un certo senso, proprio perché il ragazzo va completato, sono delle scommesse che io farei sempre, personalmente, perché è vero che noi siamo rimasti scottati con la questione del cadera, che comunque abbiamo pagato abbastanza. Però, ecco, un giocatore giovane e di talento che vai a prendere con delle caratteristiche che hai individuato, a meno di bucare l'acquisto, e può succedere, ma in linea di principio è difficile, ecco, che poi magari qualcosa non ti torni indietro nel caso dovessero andare male le cose. Se dovessero andare bene, avessi fatto un buon investimento per avere un giocatore che si rivaluta, dovesse andare male, insomma, si vede che cosa fare. Però è chiaro che prendere un giocatore di 30 anni e magari pagarlo è diverso da prendere a una cifra comunque accettabile un ragazzo di 22 anni di talento che va formato. Poi questo passa tutto nelle mani di Pioli e del suo staff e, insomma, vedremo. Ecco, comunque sicuramente il talento c'è, le qualità ci sono, ci si deve molto lavorare. Quindi non aspettiamoci, se dovesse arrivare, un giocatore da, diciamo, da buttare subito nella mischia, così a fare il titolare dal primo minuto, senza prima avergli dato un periodo per capire anche che in una grande squadra si devono fare entrambe le fasi. Spero di avervi dato una sufficiente panoramica del giocatore, aspetto i vostri commenti su Isaksen e qui sotto. Nel frattempo vi ringrazio e alla prossima.